salve amici bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale i video di oggi sono talmente spaventosi che risveglieranno in te paure nascoste che non sapevi nemmeno di avere prima di cominciare ricordati di iscriverti al canale ricordati anche di recuperare i video precedenti se non li hai ancora visti detto questo cominciamo il primo filmato mostra a questo ragazzo che ha qualche problema con la sua motocicletta sembra che all'improvviso non funzioni più non sapendo cosa fare tenta di muovere l'acceleratore ciò che succede è davvero impressionante nel tentativo di accendere la motocicletta il ragazzo muove l'acceleratore e all'improvviso sbuca fuori quest'ombra che spinge il ragazzo in modo violento facendolo cadere a terra questo filmato è stato ripreso durante un temporale l'uomo che ha realizzato il filmato ad un certo punto fa una panoramica del luogo senza saperlo oltre al temporale riprende qualcosa di veramente il terzo raspore il vero all'improvviso corretto il vero il vero questa foto è stata scattata da due genitori la foto mostra questa bambina mentre gioca con il suo cellulare rivedendo la foto i genitori si accorgono di aver catturato qualcosa di spaventoso proprio alle spalle della bambina il prossimo video è stato registrato da dei ragazzi mentre erano in vacanza su una pianura uno di loro riprende quel luogo con una telecamera e ad un certo punto in mezzo alcuni alberi sembra si intraveda lo spirito di una sposa un certo punto in mezzo alberi sembra alberi sembra di un'altra parte la gente è un certo punto in mezzo alberi sembra di un certo punto in mezzo alberi sembra di un certo Diego Reagan ha realizzato questo filmato mentre era in atto una tormenta durante la registrazione l'uomo nota qualcosa di strano sbucare fuori da alcune nuvole ciò che viene ripreso è davvero impressionante questo è ciò che è stato filmato alcuni fenomeni paranormali terrorizzano una giovane ragazza che decide di filmare tutto con la sua telecamera ciò che riprende è davvero impressionante questo è ciò che è stato filmato filmato oh Questo filmato è stato catturato da una telecamera a circuito chiuso. Il filmato mostra alcuni oggetti che vengono spostati da una forza invisibile. Come se non bastasse, ad un certo punto si spengono le luci. Ciò che viene ripreso dopo è davvero impressionante. Siamo arrivati al termine ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi filmati. Io vi saluto e come al solito ci rivediamo alla prossima. Ciao!